Fili ghilli in materiale sintetico. Questi fili, lunghi una quarantina di centimetri circa, sono avvolti in delle matassine e poi vengono estratti alla bisogna per mimetizzare qualunque cosa. Vanno fissati ovviamente, come vedete la scala dei colori è molto vasta, dal bianco per i terreni innevati fino al nero, verde, verde chiaro, verde scuro, grigio, grigio verde. Per ogni necessità si possono mescolare fra di loro, intrecciare come meglio credete sull'elmetto, su qualche tipo di fucile, sui cavalletti delle proprie macchine fotografiche. Non lasciano residui, essendo materiale sintetico, sono leggerissimi, possono essere utilizzati ovunque e riutilizzati anche più e più volte, poiché sono facilmente impiegabili in quanto leggeri, resistenti, anche allo strappo sono molto resistenti, non creano polvere, non lasciano residui di nessun tipo, non sporcano assolutamente e sono impiegabili ovunque voi riusciate ad utilizzarli in maniera medica.